E che cosa gli è stato consigliato anche? E mentre lui esorcizzando cercava di tenersi lontano, poi però, di fronte alla debolezza della situazione napoletana, è venuto anche lui più volte. E De Magistris sia stato molto abile fino a trasformare nelle elezioni Renzi, suo malgrado, nel vero candidato sindaco del PD a Napoli. Ma anche un bambino avrebbe capito questo, politicamente, che questo spianava un'enorme strada a De Magistris.